Ciao a tutti! Lui è Luis e lei è Sofì e insieme siamo il Me Contro Te! Stiamo per andare a vedere le persone più stupide del web! Lei sta cercando di twercare? Ma non twercare se non è il caso! Ti verrà il colpo della strega! Ecco, ti è venuto! Che dolore! Un altro crack! Non fate le cose se non le sapete fare! Questa è la propria legge! Se proprio sapete farle, prima fate un po' di riscaldamento! Cosa sono delle tavole da surf? No, no, no! Queste cose lasciale fare allo sportivo! Ok, è in equilibrio! Non è stato in equilibrio! Penso la panciata più grossa mai vista! Dolore! Cosa stai facendo? Ma proprio sei in dubbio! Cioè, sta saltando su una lastra di ghiaccio! Non mi rendete fumo? Non è una pista di partinaccio! Ma non era ovvio che si bucava il ghiaccio! Sotto c'è un lago! E lui cosa fa? Sta mettendo i piedi nel fango! E' caduto! Ma come pensavi di poterti salvare con semplicemente una pietra nel laghetto? Ci sentiva Peppa Pig! Adesso lo è diventato a tutti gli effetti! Qui c'è questa specie di persona che si sta rampicando come se fosse Babbo Natale con regali! Sì, ma solo che quelli non siano regali! Mi sa che è un sacco della spazzatura! E dico io, ma non c'era un altro posto per buttare la spazzatura! Si è dovuto arrampicare con quel saccone gigante pieno di rifiuti! Immagino sia pesantissimo e adesso non riesce a lanciarlo sopra! Ma dove ti trovi? Ma che schifo! Oh no! Tutta la spazzatura è caduta per terra! Ma adesso lo dovrò raccogliere tutta! Oh no! Oh no! Oh no! Che schifo! Ma dove ti trovi? Nella savana! Ma perché ti sei arrampicato sul tronco! Are you serious? Come volevi che finisse? Voleva fare un ponte forse! No! Nel solo non ha preso la palla! Ma è pure caduta all'indietro facendo la capriola! Ok, non fate questi scherzi ai vostri amici! Io potrei morire! Io potrei morire! Lo capisco perfettamente! Ma che attrezzo è? Ma cos'è? Ma che sta facendo? Secondo me lo sta utilizzando nel modo sbagliato! Ne sono più che certo che non si usi così! Ma poi è andata lì indietro! E ha battuto la testa! Non vorrei mai avere a casa delle persone che ti fanno scherzi mentre dormi! Neanch'io! No! Le ha semplicemente buttato un mandarino d'osso ma lei chissà cosa pensa che sia! Eh beh è ovvio che stai dormendo salti in aria se qualcuno ti urla e ti tocca qualcosa di strano! Magari ne sembrava un insetto o un animaletto! Ah è papà della sposa che dolci che carini si abbracciano! Love! Ehi 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 ehi! Ma sembrava un vecchietto! E' fuori controllo! E invece è pazzo! E' pazzo! Era il re della festa! Perché lo hai fatto? Perché lo hai fatto? Dove stai andando? Con la mazza in mano! Ma che super calcio hai dato? Ma cosa voleva fare? Si è incastrato il piede! Io non ci credo, io non ci credo! Non puoi più tirare il piede fuori! E' rimasto con la scarpa secchio! Beh mi sai che sei veramente uno tra le persone più stupide del web! Ma gli farà anche amare il piede immagino! Ma perché hai dovuto dare un calcio in quel secchio? Ma poi con quanta potenza! Oh no! Altre persone che dormono! Si è addormentato con il telefono in mano! Cioè sta dormendo o è sveglio? Secondo me dorme! Stava russando! O magari sta guardando il telefono con gli occhi chiusi! Non credo lui! Secondo me comunque a un certo punto si andrà in faccia! Classico! Intanto qui c'è qualcuno che ha paura dei piccioni! Ma se hai paura dei piccioni perché ne tenevi uno in mano? Io non potrei perché io ho troppa paura! Mamma mia tutti che svolazzano! Tutti che fanno nei capelli! Aiuto! Lo capisco perfettamente! Barca con persona con pancia significa solo cadere in atta! Ma l'acqua è bassa! Guarda! E arriva qui alla vita! No 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 no! Gli scherzi mentre si dorme sono i peggiori! Tu non mi farei mai scherzi mentre dormo! Non lo potrei sopportare! Sì lui ma... Fermi tutti! Quel signore stava dormendo su una motocicletta! Effettivamente non è un po' pericoloso! L'ha scambiato per un letto! Andiamo in ascensore! Tutto un pochino liscio! Così? Ma a un certo punto... Oh no! La faccia! E adesso che cos'è? Stanno legando qualcosa al lampadario? No! No! Dentro c'era del riso! Dovevano aprirlo e fornò cadere sopra gli sposi! Ma invece è caduto addosso un invito! Ma non potevano semplicemente prendere il riso e lanciarlo con le mani come si fa sempre! Volevano inventarci un modo alternativo! Questo bambino sta sorridendo! No! No! Ma dai! Ma così fa la mani degli infarti! Oh no! Questo scherzo è tremendo! Ma il finto è vero! Non lo capisco! No! Il finto è legato con una corda alla persona! No! Questo scherzo no! Mamma mia! Mi sto spaventato io per lui! Ma sono pazzi! Ma immaginatevi mentre siete presi dei vostri pensieri arriva un clown! Non farlo! Non farlo! No! No! Ecco come rovinare un'amicizia questo si può chiamare! Sulla neve! Beh! Beh che carini! Sembriamo noi sulla neve! Anzi tu sembri quella a terra ecco! Ma perché hai un pitone gigante addosso! Ma anche lei si spaventa! Ma se ti spaventi non ti pare mettere un pitone addosso! Ma fate il grande quel pitone! Che buona la torta! La torta ma... Ma scusa ma perché stavano leccando tutti la stessa torta? Ma non potevano tagliarla a fette! Ma non lo sapete che non è igienico! Sicuramente mai visto un modo più stupido per mangiare la torta! Quindi te la sei irritata in faccia! Ma poi l'ha anche lanciato all'altro amico! Oh! Ma questi scherzi proprio sono esagerati! Ah di nuovo sulla neve! Con questo gonfiabile! Ma è ovvio che il gonfiabile si è bucato! Ma scusate ma quello era un gonfiabile per il mare, per la piscina, mica per la neve! Va bene che è sempre acqua però è acqua quella ghiacciata! Camminare a bordo piscina non si fa mai perché finisce sempre e solo in un modo! Così! Come va baby! Neanche camminare a bordo barca! No! Neanche correre su una barca! Ecco! Stavo appunto dicendo! No 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 no! In questo caso non si tratta di persone stupide ma di persone con amici stupidi! Poverino! Il sacco ha fatto un bel cocktail a terra! No 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 è scivoloso lì è scivoloso piano! Ehi c'è il fango si vede che è bagnato stai attento a non andare in quella parte! Ma perché stai andando invece al fango? Non riuscirà più ad alzarsi! La neve è sempre pericolosa! No no no! No! Ma bravo! Ma come è fatto? Ma si è salvato con un'agilità pazzesca! Ma qui è altissimo quindi secondo me non avrebbe avuto neanche bisogno della scala! Ma era un gatto? Fa l'angelo! L'angelo si fa sulla neve soffice non su quella battuta! Quello era letteralmente ghiaccio! E si sarà fatta malissimo! Deve girarle la testa! No! Ma dimmi che è uno scherzo dimmi che aveva della pasta! Aveva della pasta! Ha fatto lo scherzo! Aveva della pasta in bocca! E ha schiacciato quando lui l'ha toccato e ha fatto l'effetto come se si rompesse l'osso ma in realtà non si è fatta niente! Già conoscevo questo scherzo! Però devo dire che vederlo fa sempre uno strano effetto! Giocare a golf! Semplice e rilassato! Quando tiri la pallina! Quando invece lanci il pavimento non credo! No! Ecco! Quando non ti vuoi bagnare in piscina! You're 180 years old! Ma cosa voleva fare? Signora c'è un giusto gabbiano dietro di lei! C'è qualcosa che non va! Sai i gabbiani morgono! Le intenzioni hai! Cosa? Ma come pensavi mai di arrivare alla lampada? E soprattutto perché volevi dare un calcio? Perché è stupido lui! Stiamo guardando i video delle persone più stupite del web! No! Non ho i compiti ma! Che c'è successo? Non ho visto lui! Gli ha portato un serpente nella camera! Oh no 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 no! Lui non farmi mai questi scherzi perché io potrei avere un infarto! Signora come va? Sicuramente ricevere in sorpresa una persona sarà bellissimo! Però si sarà spaventata molto! Ma dove cavolo è uscita? Ma comunque noi ci siamo divertiti un sacco! Speriamo vi sarei divertiti anche voi! Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura! Ciao! Ciao!